Bene, ciao a tutti, siamo alla quinta puntata, allora oggi abbiamo fatto la prima giornata E-Ref della frontiera, è stata una giornata calda, calda calda calda, quasi quasi, io personalmente rimpiango Almeria, che almeno c'era freddo però almeno non si sudava, invece qua si suda, ci si stanca, eh che cazzo, fa un rumore, ci si stanca molto prima, però siamo contenti dei nostri tempi, io personalmente ho abbassato di 8 secondi, anzi di 9 secondi il mio personalissimo record, che era il 2.17, sono stato 2.08, Tati pronti via 2.05 e adesso ho chiuso 2.01, alto, no basso, scusa, ecco Tati nella sua magnificenza, con un po' di pain sul culo anche, guardate che bello, bellissimo, Giacomino, 2.04 quindi va molto forte, devo cercare di raggiungere Giacomino ma non ce la farò mai, ho già perso 2 caffè, no un caffè, l'altro non lo perdo mica, no Giacomino 2.00 non ce la farò, quindi il caffè non lo perdo, bene allora, pareggi un caffè, pareggi un caffè, pareggi un caffè, io lo voglio pagato da te, cioè non lo voglio pagato da Giacomo, no, allora io ti pago il caffè e lui lo paga me, basta, figa adesso lui da il traspondere a un altro e anche io lo faccio, sì così gli dai tu che sei 2.01 cosa fai, domani cosa fai te, allora Tati ha dichiarato che domani fa 2.00, è facile che lo faccia, io potevo abbassarlo ma ci sono dei cancelli, dei fermi che non riesce a passarli, si mettono di mezzo, uno mi ha fatto un lavoro da chiodo, mi si è messo all'interno mentre piegavo per prendere sulla curva, roba da farsi male, ci sono dei coglioni enormi, comunque niente, la giornata è veramente bella ragazzi, la pista è favolosa, hanno rifatto anche l'asfalto e si viaggia veramente bene, quindi se si vuole tornare a Erez noi siamo presenti perché comunque è bello, niente ragazzi ci sentiamo domani per l'ultima puntata, a forse ne facciamo un re di mezzo stasera, che dire, stasera ne ho letto presto perché non ci stiamo dentro, poi ci manca Riccardo, il bello della compagnia, quindi non possiamo fare niente, bene vi saluto, ci sentiamo domani, ciao a tutti!